Successa la sesta edizione del Memoria all'Armando di Domenico, il grande appassionato di pastori tedeschi che ha trasmesso al Vallo di Diano la cultura di questa razza canina. La carmessa organizzata dalla sezione Lupi, Vallo di Diano di Sala Consilina con Vito Brandi, Giovanni Pinto, Michele Calandriello, Giuseppe Lobosco e Massimo Paventa, a partire dalle ore 9 di ieri domenica 12 ottobre, hanno fatto sfilare i migliori esemplari intervenuti non solo da tutta Italia ma anche dall'estero, come Germania, Austria e Portogallo, tutti a concorrere alla vittoria delle categorie in base all'età del cane, sul sintetico dello Svaldo Rossi di Sala Consilina. La partecipazione è stata grandissima con circa 1000 persone presenti e più di 180 pastori tedeschi. A vincere la categoria Cane Ilco da Casa Betoncane un esemplare di allevamento portoghese, mentre per lavoro femmine ha vinto Pedra de Calaino, cane di allevamento che ha ricevuto il trofeo Armando di Domenico. Sono contento di venire in questa sezione, in questa bella cittadina di Sala Consilina, sono stato anche l'anno scorso, sono stato ben accolto, gente molto semplice, sportiva, che devo dire, la bellezza della città mi piace molto, specialmente queste piccole, non diciamo montagna, collina, con dei bei palazzi un po' antichi. Nell'insieme è un'accoglienza strepitosa con un pubblico abbastanza corretto e sportivo. Devo ringraziare a tutti quanti per l'ospitalità e per la correttezza nell'insieme. È una manifestazione a livello nazionale, vengono da tutta Italia, anzi quest'anno ci hanno omaggiato anche dall'estero e quindi è una manifestazione che sta prendendo molto prestigio. Quante presenze più o meno avete calcolato per oggi? Abbiamo 150 cani da tutta Italia, diciamo che ogni anno la manifestazione va sempre molto meglio e siamo molto molto contenti. Ringrazio anche l'amministrazione comunale per darci questo magnifico posto che va benissimo per organizzare questa manifestazione. Anche per spiegare questo, colui che andrà a vincere, diciamo il pastore di disco che avrà la possibilità di vincere anche per la categoria adulti, a che cosa può aspirare? Allora, essendo questo un avvenimento di livello nazionale, un raduno nazionale, ci sono anche dei punti in balio, perché i determinati cani concorrono anche per questa categoria. Praticamente si diventa campione per un totale di punti raggiunti e questa manifestazione è valida proprio per raggiungere i determinati puntigi. Raccogliendo questi punti, quindi un giorno... Sì, si raggiunge una quotazione e si diventa campione nelle determinate categorie. E si potrebbe anche essere campione mondiale. Sì, questo che cosa dimostra? Dimostra che il padrone ha avuto la costanza di allenare il cane, di portarlo alle varie competizioni. Sì, è presente che le competizioni smaniano dalle Alpi alla Sicilia, quindi per un proprietario di cane portare e sbarcarsi i cani, le spese sono non indifferenti. E quindi stanno molto vicine a questi cani. Allora, diciamo l'aspirazione di questa organizzazione, di questo memorial, a che cosa vi porterà? Un giorno magari ad avere un appuntamento mondiale? E si potrebbe anche organizzare il campionato italiano dei pastori tedeschi, perché il luogo lo permette, ma naturalmente ci vuole molto più tempo, noi siamo una piccola... Non siamo al top, noi siamo 32 persone nella nostra organizzazione, però siccome abbiamo amici che collaborano nella sezione di Salerno, la vicendia di Salerno, le varie limitrofe nel Casertano, anche ci danno una mano, un giorno si potrebbe arrivare ad organizzare il campionato italiano del pastore tedeschi. Intanto grande soddisfazione per l'ennesima giornata. Grandissima.